Ebbene, vediamo i ballottaggi per quanto riguarda le elezioni europee, o meglio le elezioni che ci sono state il 26 maggio, però vediamo quelli che sono i risultati nel ballottaggio in Italia. Livorno e Rovigo tornano dunque al centro-sinistra, il PD conferma la città di Prato, di Reggio Emilia e Cremona, ma va a perdere Ferrara e dopo ben 69 anni di tempo passa ad un sindaco sestruito dalla Lega e centrodestra e Forlì. A Campombasso, invece, l'unico comune in cui correvano questi ballottaggi 5 Stelle con Gravina sconfiggono l'alleato di governo Domenica Maria d'Alessandro, sostenuta da partiti di centrodestra, ossia Lega, Forza Italia e Fratelli Italia. Sono questi i risultati del ballottaggio che hanno visto un drastico calo nell'affluenza rispetto al primo turno, meno 16 punti circa. Vittorie straordinarie e sfolgoranti della Lega e ballottaggio e abbiamo eletto sindaci dove governava la sinistra da 70 anni, così avrebbe detto esultando il ministro dell'interno Matteo Salvini, nonché leader della Lega. La sfida nei 14 capoluoghi dunque finisce con questo bilancio, la sfida dei 15 dunque fatta, riassumendo brevemente 7 comuni al centrodestra, 6 al centrosinistra, 1 al Movimento 5 Stelle e 1 a un candidato di tipo civico. Grazie e il video termina qua questi risultati definitivi raggiunti. Iscrivetevi, commentate, da Leandro è tutto. Al prossimo video.